Ciao ragazzi da Vittorio, la Lazio, ve l'ho sempre detto, quest'estate deve cercare di prendere due difensori. Il nome uscito in questi giorni è quello di Andrea Ranocchia. Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, come detto più volte in questo canale YouTube, la Lazio la prossima estate deve andare a prendere due centrocampisti di spessore, due centrocampisti per migliorare il reparto arretrato bianco-celeste che mai come quest'anno è andato in grande difficoltà. Uno dei nomi usciti è quello di Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter che non ha ancora rinnovato il contratto per cui a giugno potrebbe svincolarsi e si dice che la Lazio ha già sondato il terreno con il calciatore. Ma perché quando si parla di Lazio vengono sempre accostati scarti come Ranocchia dell'Inter e mai grandi giocatori? Quindi vengono accostati alla Roma e alla Lazio sempre i scarti. Ma perché? Boh, qual è il mio pensiero su Andrea Ranocchia? Beh, parliamo sicuramente di un giocatore di esperienza, un giocatore che sta in un grande club, per cui diciamo che è un giocatore che conosce la Serie A, conosce la difficoltà di giocare in un grande club. Queste però per me sono le uniche cose positive di Andrea Ranocchia. Andrea Ranocchia è un giocatore alto, forte di testa ma lento. La Lazio ha già tanti difensori con quelle caratteristiche. Lo stesso Hutt è un Andrea Ranocchia, è un giocatore a livello di Andrea Ranocchia dal punto di vista del gioco. Poi qualcuno può dire che Ranocchia ha più esperienza, magari più forte. Io ho qualche dubbio, anzi, io onestamente dico che Hutt è meglio di Andrea Ranocchia. Prima che mi uccidete, Wesley Hutt è secondo me una buona riserva. Non è un titolare, non deve essere un titolare della Lazio. Vorrei specificarlo perché poi nei commenti mi scrivetevi tutto. Parliamo di un giocatore di 33 anni. Abbiamo sempre detto che la Lazio deve ringiovanire. Andare a prendere un difensore di 33 anni va nella direzione opposta a quello che deve fare la Lazio. Qualcuno dice che è un giocatore che viene dall'Inter, che vince lo Scudetto, è un'alternativa per la difesa dell'Inter, per cui parliamo di un giocatore di un certo livello. Ragazzi, Andrea Ranocchia ha giocato quattro partite in campionato. Quattro. Per un totale di 344 minuti. Ha fatto una partita in Coppa Italia, quindi finora quest'anno ha giocato cinque partite. Non parliamo proprio di un'alternativa. Gioca quando veramente Antonio Conte è disperato. Quindi non parliamo proprio di un'alternativa, uno che entra a fargli fiatare i difensori. Se Antonio Conte è disperato, gioca Ranocchia. Altrimenti Ranocchia sta bello in panchina tutte le partite, perché quest'anno a Ranocchia è stato in panchina tantissimo. Non solo. Champions League non ha giocato neanche un minuto e la Champions League ovviamente è l'evento più importante per questa Inter. Ranocchia ha giocato quattro partite in Serie A contro Genoa, Parma, Torino e Benevento. Insomma, tutte le squadre in bassa classifica, bassissima. Chiaro segnale che Conte non si fidava di quando il livello saliva di far giocare Ranocchia. Quattro partite contro le ultime quattro in classifica praticamente. Ecco, Ranocchia è evidente che è un giocatore che non rientra nei progetti di Antonio Conte, tant'è che contratto in scadenza e l'Inter non ha minimamente pensato a discutere il rinnovo del giocatore. Ranocchia, ve lo ricorderete, veniva dal Bari, sembrato essere fortissimo. Ranocchia andò all'Inter, la Juve prese Bonucci e poi alla fine era Bonucci quello bravo. Ranocchia si appoggiava su Bonucci. Giocatore che almeno mi ha mai fatto impazzire, un giocatore non scarso, intendiamoci, però ormai a 33 anni direi che il meglio del giocatore è già passato. In più, con il fatto che la Lazio deve cercare di ringiovanire la Rosa, non invecchiarla ancora di più, direi che Ranocchia è un no per me piuttosto importante. Assolutamente no. Un acquisto di Ranocchia sarebbe un errore gravissimo. Uno, perché non rafforzi il reparto arretrato. Ranocchia per me non è meglio di West Livet. Due, perché prende un giocatore vecchio, 33 anni, già compiuti, l'anno prossimo 34 vuol dire che veramente possiamo quasi iscriverci al torneo over 35 fra un paio di anni. E tre, non ti cambia il reparto difensivo. Ranocchia nella Lazio è un panchinaro. Vale la pena prendere un panchinaro come Ranocchia? No, a quel punto mi prendo West Livet. Mi costa di meno. È molto più giovane, conosce l'ambiente, ma perché devo andarmi a prendere Ranocchia che poi prende sicuramente uno stipendio superiore a tutti i difensori della Lazio. Questo è il mio giudizio. Voi che ne dite? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.